La via Aurelia con i corridori del Giro d'Italia, ventottesimo della serie, nella tappa Grosseto-Roma. Tempo bello dopo giornate di pioggia. I concorrenti smaniosi di prendere la fuga sono strettamente sorvegliati perché questa tappa è quanto di più facile passisti e velocisti possano augurarsi. La corsa quindi procede a gruppo serrato, ma riserva all'ultimo una sorpresa. Siamo in vista di Roma. Ed ecco la sorpresa. Sant'Ambrogio si stacca fulmineo dall'avanguardia e il reatino Leoni e il triestino Cotur si slanciano all'inseguimento. I tre elettrizzati dalle possibilità di vittoria si prodigano con tutte le loro energie. Alle 17 e due minuti il trio fila nel velodromo Acchio. All'uscita della prima curva Cotur è sopravvanzato da Leoni che vince con un paio di macchine di vantaggio. A 55 secondi dopo il grosso irrompe nel velodromo con Vini e De Benedetti in testa. A 55 secondi dopo il gioca. A 56 quest'eb ни bella. A 58 secondi dopo il gioca. A 62 secondi dopo la Purificazione Salerno Suo Applatta. A 22 secondi dopo il giorno Berửa città.